Una festa dell'assunta sempre molto partecipata ad Arezzo, terminata con la fiaccolata in Piazza Grande. Ad ufficiare la Santa Messe, poi guidare la processione, Don Alvaro. Questa è la festa più antica rivolta a Maria, secondo il Vangelo, il 15 di agosto è il giorno in cui è stata assunta in cielo. Al termine della sua vita terrena, andò in paradiso, in anima e corpo. Una solennità celebrata da tutte le chiese cristiane, per questo, costituisce la festa principale della Madonna, la solennità mariana per eccellenza dell'anno riturgico.